L'anno di Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, ha ormai superato la metà del suo ciclo e visto concludersi alcuni degli eventi più importanti ed iconici per la città pesarese, tra questi il Roff su tutti. Girando per la città si avverte gradimento da parte di alcuni cittadini, mentre altri aprono una parentesi quasi filosofica sul significato della parola cultura. La critica principale viene invece rivolta alla comunicazione degli eventi in calendario. Gli eventi, dico la verità, non sono molto informato, cioè vorrei essere informato, ma ho preso l'opuscolo degli eventi, di quelli che suonano qui, i vari complessini, non c'è scritto niente. Ogni tanto vedo un amico che suona al mare, suona, fa il gruppo che suona, però non c'è scritto niente, dove suoni, invece anni e dietro c'era scritto tutto, dove suonavano quelli, dove suonavano gli altri, è stata un po' ristretta la cosa, cioè non mi piace, ecco tutto qui. La cosa più importante, il Roff è andato bene, 21.000 presenze, hanno scelto il posto giusto lì, perché non c'è più i pullman in giro. E quello è un evento molto, quello che copre tutto, diciamo, il Roff, come venimento più importante. Il resto, la mostra del cinema è andata bene anche a quella. Tanto Pesaro è questa, eh? Gli eventi simbola hanno rispettato le aspettative. Sì. Un voto da 1 a 10, secco? Per Pesaro, quello che hanno fatto il comune, quello che poteva fare, 8, 9, il resto è la colpa della natura. 8 e mezzo, quindi? Eh, la natura dopo ha messo, con la mucillagine, io non sono mai andato al mare quest'anno, io quest'anno non sono mai andato al mare. La cultura che si intende? Facciamo una bici quadrata della cultura, che si intende? Cogliore, vogliamo intendere la cultura. Raccogliere l'erba? Raccogliere gli ortaggi? Qual è la cultura? Scomparsa, tolta, cancellata. Dovrebbero trasmettere in tv 24 ore, cioè 24 ore, per dire la cultura è questa. Anche i genitori di una certa età hanno bisogno di capire che cosa è la cultura, che hanno dimenticato.